E' l'orario del tè, no, del caffè! Batti il chat, metti il rec, inizia! Coffee break! Quello riccio qual'è? Damiano! Coffee break! L'altro basso chi è? Bumberto! Coffee break! E' l'orario del tè, no, del caffè! Batti il chat, metti il rec, inizia! Coffee break! Oh, allora, hai fatto il lavoro? Ma hai fatto una cosa pulita come t'ho chiesto? Sì, qui parliamo di una persona che mi dava problemi, spero che da adesso in poi non me ne dia più! Guarda che io sono una brava persona, eh! Io c'ho famiglia, io c'ho figli, io c'ho una moglie! Non posso finire dentro! Hai portato i soldi? Ho portato tutto! Controlla se sono tutti! Ok, sono tutti! Che fai, vai a peso con i soldi? Ho l'esperienza! Sì, ma tu sei sicuro di aver fatto un buon lavoro? L'hai eliminato definitivamente! Devi stare tranquillo! L'ho preso e l'ho buttato in un burrone! Come in un burrone? Ma ti avevo detto che doveva sembrare un colpo di sonno, lo vai a buttare in un burrone! Tranquillo! Prima gli ho messo il pigiama! Siamo fregati! Forse! Siamo fregati! Siamo fregati! Scopri il nuovo SUV Citroen C3 Aircross Ti aspettiamo nei nostri showroom E con l'eco bonus e rottamazione fino a 8.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Citroen Tu non la lasci mai questa valigia? Sempre con te, sempre attaccata, non la sberdi d'occhio neanche un minuto! Eh beh, ci sono cose di lavoro che mi servono, sono personali! Ce l'hai sempre con te quindi? Certo! Pure dentro casa? Ci giri in salone, sbatti ai mobili, sedie, tavoli? A casa no! Nel letto che fai? No, non la metti a casa, non la utilizzo a casa, non la metto a casa questa! Mi la porti al nido e poi la sera la vai a riprendere! Certo, sì! Pensa, tra una settimana gli faccio fare pure la comunione! Auguri, auguri! Grazie! Attenzione! Informiamo ai viaggiatori che a causa di uno sciopero dei capi stazione dei controllori oggi tutti i treni sono in orario ci scusiamo per non aver creato disagio Che pessimo servizio, guarda, io sono senza parole, sempre così! Ma scusa, per una volta che non arrivano in ritardo? Sì, ma io ormai mi hanno organizzato la giornata in base ai ritardi mo arriverò all'appuntamento con 40 minuti d'anticipo Mi spieghi io che faccio? Beh, approfittane per riposarti un po', vatti a fare una mezz'oretta sui binari dell'alta velocità Ma sai che è una buona idea? Annuncio cancellazione treni A causa di uno sciopero indetto da Iras, CGL, CISU, Will, Cobas, Limur, Taci, Tua Da questo momento non partirà più neanche un treno Ci scusiamo per il disagio Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla Fa sempre bene a ricordarlo ogni tanto Io non ho parole, ogni volta sempre così Fermo, fermo, dove vai? Allontanati dalla linea gialla, non ti avvicinare, è pericoloso Ma scusa, ma se hanno detto che c'è sciopero i treni non passano? Scioprano proprio contro la gente come te che in stazione si fa i fatti suoi Se ne frega, supera la linea gialla Ignoranti Guarda, penso che anche Gandhi a te avrebbe messo le mani addosso Non so come faccio io ancora a sopportarlo È l'orario del tè No, del caffè Pati il ciak, metti il reg Coffee break Quello riccio qual è? Damiano Coffee break L'altro basso chi è? Bumberta Coffee break È l'orario del tè No, del caffè Pati il ciak, metti il reg Coffee break Cola Pag. Ciao Questa 공itär Questo Do Po Man Po L issued 繢